Il razzismo è l'argomento di oggi Se non ti vai a cacciare i guai Non sei contento Tu vai a sfrugliare con la mazzitella La mazzitella Vabbè ma oggi è mercoledì delle ceneri Si può parlare tranquillamente di razzismo Non per l'associazione ceneri È l'una e mezza L'una e mezza ci si cimba Ma tu magna e parla ragazzi è più divertente Allora ascolta partiamo Non si mangia molto Non si potrebbe osservare il digiuno E' l'attenzione dalle carni Manco si tromba No 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 Cristo non si tromba Ma nel mitocini in pratica capisci Ma guarda io ho mangiato la verza Ti ricordi di venicio verza Ma va bene Allora partiamo da Sacchi Che ha detto delle parole Che ha detto? Che ha detto che ci sono nelle giovanili Troppi giocatori di colore Si Non va bene questo Non va bene Non va bene perché allora ci stanno anche tanti rumeni Tanti bulgari Che ne so Vedi ha fatto come l'ho dito Perché una cosa giusta ha usato una cazzata Esatto E quindi Quindi Sacchi non va bene Guarda al dito Sacchi Non va bene Non va bene Non va bene Dovevi dire Bisogna proteggere i vivai Bisogna Andrè Da fare in modo che i vivai Produgano più talenti nostrani Esatto Esatto Per esempio i stranieri Carci italiani Ma a Remengo Ma no C'è stato un giorno di giocatori Dove vai a Carci Italiano? Oddio A Remengo Chi è? Un paese In provincia Sedice al nord Ah al nord Perché tu sei anche un po' Ma no che dici Che sono peggio delle colore Tu sei un po' razzista Senti Allora invece a Parigi Che cosa è successo? A Parigi cosa è successo? Che non hanno fatto entrare un uomo di colore In metropolitano In metropolitano Però vabbè Ma lì magari non è fatto di colore Cioè ma tu l'hai preso la mattina La metola alle sette e mezza a Cogliarbani Vabbè sì Cioè è un muro di gomma Un muro Tu vieni proprio ribaltato fuori Ma non è cattiveria Che proprio non c'entri Non è che No 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 Non c'entri Quindi magari lì non è un discorso Che ne so Di razzismo Che magari Dici vada Non c'è spazio Vai fuori No Che dici? Insomma Il paragone è un po' ardito Un po' ardito 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 Va bene Allora noi ti lasciamo al tuo pasto Consumalo Tranquillamente E ci sentiamo Parco Ecco Un parco Ricordati che cenere sei E cenere tornerai Tu non te lo devi dimenticare No e chi se lo scorda Grazie per questa massima Sì sì Siamo Mose Grazie Ciao 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 Ciao